Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di GNews, l'informazione quotidiana di Supergei. La cronaca in primo piano, il disastro dello Sparviero è stato recuperato questa mattina al corpo di uno dei due marittimi dispersi. Si tratta di Maroga Costelli, 35 anni, ancora disperso invece Simeon Basile di 39, entrambi, come ricorderete, di nazionalità romena. Il corpo è stato trovato attorno a mezzogiorno nel corso dei sopralluoghi effettuati sul relitto da parte della Capetina di Porto che ha ripreso dopo qualche giorno di stop le ricerche. I sub nella loro immersione hanno ispezionato l'imbarcazione trovando il cadavere di uno dei due marinai dispersi, come è noto, lo scorso 2 di aprile. Mancano ancora diversi parti del relitto da ispezionare. La prima immersione è stata necessaria per ritrovare lo scafo. Nella seconda, quando è stato effettuato anche un video, le condizioni di visibilità erano piuttosto scarse. Oltre alla tuga di comando, si è riusciti veramente a vedere poco. Ed è stato ritrovato senza vita Alessandro Bernardini, restiamo nelle marche. L'anziano di 85 anni, scomparso ieri sera a moglie di Maiolati, nell'Anconetano. L'uomo era andato a pescare lungo il fiume Sino, vicino alla centrale idroelettrica. I sub dei vigili del fuoco hanno rivenuto il corpo in un bacino che raccoglie le acque sotto una grilla. Le ricerche erano scattate alle 22 ed erano state trovate l'auto e l'attrezzatura dell'uomo, ma di lune su una traccia, probabile che abbia avuto un malore e sia caduto in acqua. In Val Vibrata, ora sempre con la cronaca giudiziaria, prima consuma un rapporto con la prostituta, poi la prende a pugni per rubarle l'incasso della serata. Un'accusa che il prossimo primo di settembre porterà a processo un 52enne teramano con l'accusa di rapina. La vicenda risale a circa un anno fa, quando secondo la presunta vittima, l'uomo, dopo aver avuto con lei un rapporto in auto lungo la bonifica del Tronto, nel territorio di Colonnella, si era prima rifiutato di pagarla, per poi prenderla a pugni insieme ad un complice e rubarle l'incasso della serata pari a 150 euro. L'uomo che si è sottoposto all'interrogatorio ha sempre rigettato l'accusa e sostenendo di essere invece lui la vittima. Il gruppo del Tribunale di Teramo, Domenico Canosa, ha rinviato a giudizio una dipendente del Comune di Giulianova per aver incassato i versamenti dei cittadini per il rinnovo delle concessioni dei loculi e dei servizi cimiteriali. La cifra sarebbe quasi di 60 mila euro, incassata in maniera indebita nel corso degli ultimi due anni. L'accusa è di peculato, falso in atto pubblico, truffa ed è sostenuta dal pubblico ministero Laura Colli, che infatti risalgono nel periodo 2009-2010, quando l'impiegata avrebbe rilasciato agli ignari contribuenti falsi bollettini di avvenuto pagamento per poi intascarne l'incasso. E con la cronaca, importante operazione di finanza e polizia di Stato, che ha confiscato beni alla famiglia di etnia Rom Spinelli per un valore complessivo di oltre 1 milione e 300 mila euro. Nel mirino degli immobili a Pescara e a Civitella del Tronto, per 5 persone, è stata disposta la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Pescara per i prossimi tre anni particolari nel servizio. Beni mobili e immobili per un valore totale di 1 milione e 316 mila euro sono stati confiscati dalla polizia in collaborazione con la Guardia di Finanza a carico della famiglia Spinelli. La confisca ha riguardato due fabbricati istituati a Pescara, tre unità immobiliari a Civitella del Tronto con annesse pertinenze e sette autovetture dei componenti della famiglia. L'attività investigativa che ha portato la confisca è stata effettuata dalla divisione anticrimine della Questura di Pescara in collaborazione con il personale del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara e la normativa applicata, come già accaduto più volte in passato, è il cosiddetto codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La richiesta delle misure di prevenzione patrimoniale è arrivata dal Questore di Pescara così come la richiesta delle misure di prevenzione. Per cinque soggetti, infatti, è stata disposta la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Pescara per tre anni. I decreti di confisca del Tribunale di Pescara riguardano soggetti che sulla base degli accertamenti risultano di dimostrata pericolosità sociale e per i quali è stata comprovata la sproporzione tra il valore dei beni posseduti e redditi dichiarati. Si tratta di persone gravate da precedenti penali e segnalazioni di polizia per traffico di stupefacenti, truffe in danno di anziani e reati di tipo predatorio e per lo Stato erano tutti privi di un'attività lavorativa lecita, per cui si ritiene che le ricchezze accumulate derivino dalle attività illecite. Ed ora a Teramo per raccontare una storia molto particolare. Ha notato le banconote nei pressi di Porta Melatina, 3.000 euro in tutto, in contanti abbandonati per strada. Lei, moglie di un maresciallo dei carabinieri di Teramo, li ha raccolti e portati alla vicina centrale dei vigili urbani. La fortuna di un amministratore di condominio distratto che ieri mattina ha smarrito il denaro dopo un prelievo. È stata quella di trovare una persona onesta che ha raccolto il denaro sparso per strada e lo ha riconsegnato. L'uomo nel frattempo aveva già fatto denuncia ai carabinieri. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di sicurezza in montagna. Il soccorso alpino e speleologico abruzzese invita infatti i fruitori della montagna a prestare particolari attenzioni nell'attività sulla neve, specialmente nella valutazione delle valanghe. Le recenti abbondanti nevicati infatti hanno creato nuove situazioni di pericolo e reso latenti quelle già esistenti. Si suggerisce, si legge in una nota, di non abbassare la percezione del rischio visto il prossimo rialzo termico e la difficoltà di prevedere le valanghe a debola coesione umida e quelle di fondo. Si legge ancora. La pagina del lavoro, sempre nel Terramano. Domani mattina alle 11 nel Palazzo Milli, in provincia a Teramo. Il presidente Renzo Di Sabatino incontrerà una delegazione dei dipendenti del punto vendita di Pineto, Mercatone 1. Dopo l'attivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della procedura di amministrazione straordinaria speciale per la società del gruppo commerciale, i dipendenti e i sindacati vogliono confrontarsi con la provincia e verificare tempi e modi per la riattivazione del protocollo con gli istituti di credito per l'anticipazione della cassa integrazione. Una volontà già esplicitata dal presidente Di Sabatino in occasione del Consiglio straordinario aperto che si è svolto la scorsa settimana a Pineto. Ed ora ci occupiamo di maltempo, post-maltempo in Abruzzo. La regione infatti stima in oltre 30 milioni di euro i danni dei fenomeni climatici che si sono verificati nel corso delle ultime settimane. Vediamo. Ammonta a 30 milioni 293 mila euro la richiesta dell'Aggiunta regionale al Governo di Ristoro per i danni causati dagli intensi fenomeni climatici che hanno ridotto l'Abruzzo in emergenza e in isolamento nei giorni 4, 5 e 6 marzo. Lo rende noto il presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso al quale il Dipartimento regionale della protezione civile ha consegnato una relazione di 75 pagine nelle quali si registrano in forma diaristica con il corredo di foto e di segnalazioni giornalistiche gli effetti del maltempo sulla popolazione sui fiumi, sui servizi essenziali e strategici. È la prima volta, spiega D'Alfonso, che si produce un documento che per qualità e veridicità del contenuto e negoziato istituzionale avviato ci colloca in una posizione di vantaggio rispetto alle nostre richieste. La relazione, che può essere consultata sul portale della Regione Abruzzo contiene anche tutte le fasi connesse all'attività di gestione dell'emergenza con il convolgimento della Sala Operativa regionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale dello Stato e le ulteriori richieste di 260.566.000 euro per gli interventi urgenti cui si aggiungono 392.415.000 euro per fabbisogni per il ripristino avanzate da geni civili regionali, province, comuni, comunità montane e consorsi di bonifica ATER e ATO. Il documento, verificato nei giorni scorsi a campione dai tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sarà legato alla dichiarazione dello Stato di emergenza approvata dalla Giunta Regionale il 6 marzo scorso per l'ottenimento del ristoro del Governo già forse nella seduta della prossima settimana. La situazione emergenziale sul territorio regionale è ancora in evoluzione, scrive il Presidente al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in ordine alla presenza di numerose e gravi situazioni di dissesto idrogeologico che continuano a determinare condizioni di elevato disagio abitativo e la compromissione della funzionalità e la sicurezza ed efficienza dei collegamenti viari. Per mano elevato aggiunge il Presidente il rischio di nuove interruzioni soprattutto a carico della viabilità di livello locale e provinciale con conseguente possibile isolamento di ambiti territoriali e di centri abitati. Restiamo in Regione Abruzzo ma cambiamo argomento prosegue la polemica a distanza il giorno dopo la seduta del Consiglio regionale nella quale ovviamente c'è stata la risoluzione sui punti nascita. Una nota molto critica arriva dal Movimento 5 Stelle che contesta il Governatore Luciano D'Alfonso la richiesta è chiara e non ammette repliche fare un passo indietro e firmare un documento che di fatto annulla quel voto. La risposta dei consiglieri è scontata obbedisco e così come nelle pagine più tristi della nostra storia si legge nel comunicato dei Penta Stellati viene eliminata ogni forma di democrazia proprio da parte dei partiti di sinistra che hanno fondato la loro a questo punto discutibile credibilità sulla possibilità di far governare il popolo e sulla forza delle idee. D'Alfonso si legge ancora segnato ieri con chiarezza quella che sarà la linea per i prossimi quattro anni decide lui e chi si mette contro lui semplicemente deve fare un passo indietro. E su questo tema oggi è stata diffusa anche una nota da parte del Presidente della Quarta Commissione Consigliare Politico Europea Luciano Monticelli che interviene in merito alle polemiche scaturite appunto in merito alla sottoscrizione da parte dei consigli di maggioranza di un documento relativo al processo di riforme della sanità abruzzese firmato ieri come noto durante il Consiglio regionale. Niente a che vedere precisa in merito con quanto avvenuto in merito ai punti nascita. Si tratta di un percorso interno dice ancora Monticelli appoggiato peraltro anche da parte di coloro che hanno votato a favore dell'opposizione dunque contro la chiusura dei punti nascita in questione per ciò che concerne poi i punti nascita continua Monticelli saremo al lavoro già da domani con questo documento invece prodotto dalla maggioranza sottoscritto da tutti i consiglieri ribadiamo la necessità di andare avanti con il processo di riforme della sanità con l'obiettivo ovviamente di uscire definitivamente dal commissariamento. Restiamo sempre in regione polemiche di natura politica arrivano anche da Forza Italia. Gli atti della regione una volta approvati sono pubblici se il governatore D'Alfonso pensa di imbavagliarci si sbaglia se non ci verranno consegnate le carte ci presenteremo con i carabinieri così i consiglieri regionali di Forza Italia Lorenzo Sospiri Mauro Febbo che hanno indetto oggi una conferenza stampa i particolari del servizio. Il gruppo consigliare di Forza Italia ha tenuto una conferenza stampa per denunciare l'assenza di trasparenza nella gestione amministrativa da parte del presidente Luciano D'Alfonso nel mirino dell'opposizione un provvedimento del segretario della giunta regionale il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri. Il presidente D'Alfonso emani un ordine per come l'ha inteso lui per iscritto al dirigente che sovrintende agli atti di giunta in cui sostanzialmente gli dice tu questi atti non li dai a nessuno e non li pubblichi fino a quando io non ti ho dato il permesso. Questo in democrazia non è possibile in uno stato liberale in cui le informazioni devono circolare non è possibile e poi sta a chi fa politica e a chi fa informazione riportarle nel modo corretto. Ma le voglio fare un esempio della nostra vita si sa tutto anche il contrario di tutto come è giusto che sia ma le pare normale che un consigliere regionale deve attendere il permesso del presidente della regione per visionare un atto approvato di giunta che ha una ricaduta sui destini degli abruzzesi questo non è possibile e quindi se D'Alfonso pensa di imbavagliarci in questo modo ha sbagliato e deve tornare indietro e permettere ai dirigenti della regione di pubblicare gli atti una volta che sono approvati. Dalla politica abruzzese è quella marchigiana tutta proiettata verso le elezioni regionali l'Udc delle Marche infatti parteciperà alle prossime elezioni con una propria lista aperta al contributo delle altre forze di centro in alleanza con il Partito Democratico su questa base sono stati attivati gli incontri per la definizione del programma di governo l'annuncio del segretario regionale del partito Antonio Pettinari sono del tutto inutili e dannose evidenzia poi Pettinari riferendosi alla spaccatura che si è creata nel partito una parte della quale appoggerà il presidente uscente Gian Mario Spacca con il movimento area popolare torniamo in Abruzzo per occuparci di agricoltura il prossimo piano di sviluppo rurale guarda con massima attenzione i giovani in agricoltura per quanto concerne i nuovi insediamenti daremo fino a 70.000 euro a fondo perduto per chi vorrà intraprendere l'attività agricola l'ha detto l'assessore dell'agricoltura regione Abruzzo Dino Pepe a margine di inaugurazione della 54esima edizione della fiera nazionale dell'agricoltura che si è aperta a Lanciano c'è un'attenzione fortissima dei giovani verso il settore agroalimentare dice un giovane studente su quattro al termine delle medie si iscrive ai studi agrari oltre a quelli che si iscrivono alle facoltà settoriali il nostro dovere è accogliere questi giovani in un settore così strategico come l'agricoltura ha concluso poi l'assessore Pepe cambiamo decisamente argomento ci spostiamo ora ad Alba Adriatica nasce ovviamente una polemica di natura politica ma non solo sul calendario delle manifestazioni il sindaco Piccioni è chiaro dice le manifestazioni le decide l'amministrazione comunale ascoltiamola nell'intervista ci sono state delle polemiche per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi soprattutto estivi qui ad Alba Adriatica lei ha tenuto a precisare che ogni evento deve avere l'approvazione dell'amministrazione comunale anche se non è patrocinato proprio dall'amministrazione sì ho cercato di fare un po' chiarezza perché a volte escono già diciamo sono già eventi che si reclamizzano sui siti come se l'amministrazione avesse già dato il proprio assenso a questo evento ho cercato di precisare che l'associazione organizzatore di un evento che la caratterizza può tranquillamente pubblicizzare però con questo non significa che l'amministrazione darà il proprio assenso darà quindi il patrocinio e lo sceglierà come evento in quel periodo a proprio rischio e responsabilità perché nel momento in cui non si attende la scelta politico-amministrativa di un'amministrazione cioè si possono essere delle conseguenze a volte poco piacevoli e in più voglio aggiungere che qualsiasi evento che può essere svolto nel territorio di Alba Adriatica occorrono per normative che attengono l'ordine pubblico la sicurezza sembra l'autorizzazione dell'amministrazione perché può succedere che in quel giorno ci sia un altro evento che l'amministrazione gradisce e quell'altro non venga fatto ed altre situazioni cioè quindi è una chiarezza che ho cercato di fare onde evitare sterili polemiche perché ripeto gli eventi sono prettamente una scelta politico-amministrativa che attiene all'amministrazione stessa giovedì 16 aprile venerdì 17 torno all'appuntamento con White Information convention promossa dal comitato regionale giovani di Confindustria Abruzzo dai neonati gruppi imprenditoriali sempre di Confindustria Gran Sasso L'Aquila Teramo e Confindustria Chieti Pescara quest'anno la manifestazione che vede per la prima volta unite tutte le componenti regionali dei giovani imprenditori si svolgerà all'Aquila in osseguo ad una precisa volontà degli organizzatori che in questo modo vogliono contribuire a riaccendere i riflettori a mantenere alta l'attenzione sul processo di ricostruzione di nuovo in Val Vibrata parliamo di Expo Expo 2015 nutrire il pianeta energia per la vita e questo è il tema di un seminario che si è svolto oggi al Vibrata College di Corropoli vediamo il nostro liceo è attento a tutti i problemi di grande interesse e di attualità e l'anno 2015 appunto c'è questo grande evento mondiale dell'Expo 2015 2015 a Milano in cui i nostri studenti saranno presenti è chiaro che l'occasione fa sì che tutto ciò che possa contribuire al bagaglio culturale dei nostri ragazzi di preparazione alla loro presenza poi all'Expo di Milano fa sì che noi siamo sensibili a questo e attiene a noi non sottovalutarli all'iniziativa promossa dall'istituto diretto dalla preside Maria Piasilla ci sono stati importanti relatori Dino Mastrocola prorettore dell'Università di Teramo Enrico Dainese preside del corso di laurea in biotecnologie all'Università di Teramo mentre i lavori sono stati coordinati da Alessio De Giglio del liceo di Corropoli il professore Dino Mastrocola in qualità di prorettore ha tracciato le linee di partecipazione dell'Università all'evento Expo mentre il professore Enrico Dainese ha portato all'attenzione degli studenti del liceo d'Annunzio un progetto di ricerca sulla nutraceutica contenuta nella dieta mediterranea con particolare attenzione ai prodotti provenienti dall'Abruzzo e nello specifico come alcuni nutrienti possono avere effetti nella prevenzione o nella cura di determinate patologie e sono stati presentati alle classi del triennio gli aspetti di ricerca più innovativi relativi ai meccanismi molecolari alla base di questi effetti sulla salute Oggi qui a Corropoli insieme appunto al Vibrata College abbiamo voluto sottolineare come Università di Teramo la nostra presenza nell'Expo insieme alla Regione e sottolineare l'aspetto innovativo relativo a quello che l'Università appunto può apportare di fatto personalmente diciamo rappresenteremo una parte relativa alla natura aceutica al ruolo diciamo di alcuni alimenti nel combattere o diciamo addirittura curare alcune patologie quindi è importante si nutrire il pianeta è importante la sostenibilità della nutrizione intesa anche come un corretto utilizzo degli alimenti cioè definire quali sono gli elementi con proprietà salutistiche noi ci occupiamo di fatto all'Università di Teramo di definire proprio quali sono i nutrienti che hanno degli effetti specifici anche dal punto di vista molecolare sulla salute appunto delle persone e quindi non solo un problema di distribuzione alimentare ma anche di corretta informazione sociale appunto sul consumatore che deve essere sempre più informato per poter avere modo di acquistare selezionati alimenti per la cura della propria persona La regione Marche ha trovato le risorse necessarie per consentire l'effettuazione dei tirocini extracurricolari ai mille giovani under 30 che erano rimasti sospesi da fine novembre a causa della mancanza di fondi pur essendo in regola con la procedura non prevista si sono dunque resi necessari ulteriori 3 milioni e mezzo di euro per sbloccare il tirocino di questi giovani molti di quali residenti nel territorio ascolano che questa occasione di lavoro temporanea possa trasformarsi in un'opportunità occupazionale stabile sulla quale poter essere costruire un progetto positivo di vita con gli eventi ancora nelle marche il terzo convegno nazionale sulla tematica dei diritti umani all'hotel David Palace di Porto San Giorgio oggi e domani ormai un appuntamento internazionale per il fermano sulla tematica di cibo e salute si confronteranno in segni relatori per due giorni di lavori che culmineranno poi con un concerto di domani sera al teatro comunale vediamo Cibo e salute diritto alla vita questo è il titolo del terzo convegno nazionale sulle tematiche dei diritti umani che si terrà a Porto San Giorgio il 10 e l'11 aprile in particolare al David Palace Hotel per quanto concerne l'attività convegnistica che vedrà degli insigni e relatori salire sul palco e parlare di diritti umani di alimentazione di cibo in base ai temi dell'Expo ma anche tanto altro infatti ci sarà la presentazione di un libro Afghanistan Italia sabato 11 marzo ed infine il tutto culminerà con il concerto presso il teatro comunale di Porto San Giorgio sabato 11 aprile alle ore 21 con direttore d'orchestra Alessio Allegrini orchestra e coro dell'istituto comprensivo Nardi di Porto San Giorgio e un inedito di Andrea Strappa composto per l'occasione scritto per Human Rights Orchestra in occasione della terza edizione di Sulla Rotta dei Diritti quest'anno siamo la terza edizione del progetto Sulla Rotta dei Diritti parleremo del diritto alla salute e del diritto al cibo come diritti essenziali per la vita compresi nell'articolo 25 della dichiarazione per i diritti dell'uomo abbiamo preso spunto dall'Expo 2015 che aprirà fra un mese esattamente per parlare di queste tematiche che sono dei temi essenziali per la nostra vita per il nostro benessere avremo l'onore di ospitare di nuovo a Porto San Giorgio il cofondatore e il corresponsabile del forum per i diritti umani di Lucerna il dottor Peter Kischleger che ha partecipato pure l'anno scorso al nostro convegno così come ci sarà la presenza del vicepresidente di Emergency il dottor Alessandro Bertani e il portavoce dell'unice Fandrea Iacomini saranno i rappresentanti dell'alto commissariato per i rifugiati così come l'organizzazione internazionale per le migrazioni dunque sì presenza importante a Porto San Giorgio intorno a questi temi altrettanto fondamentali ancora appuntamenti ma in Val Vibrata si intitola il gioco degli incasti l'iniziativa promossa dall'istituto comprensivo Nereto Santomero Torano in collaborazione con il comune di Nereto nell'ambito delle tematiche dell'inclusione sociale e scolastica delle persone con disabilità intellettive l'iniziativa è in programma a Nereto una sala allende venerdì 17 aprile a partire dalle ore 16 in occasione della quale saranno illustrate anche le attività del CTS il centro territoriale di supporto tecnologie e disabilità si svolgerà domenica prossima 12 aprile il Pineto Dog Festival la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe abbiamo voluto organizzare questo appuntamento assieme a Danta Onlus Pineto e a SD Universe Dog per sensibilizzare sempre di più sull'importanza dei cani anche dal punto di vista sociale dichiarato l'assessore all'ambiente del comune di Pineto Laura Traini Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Lega Pro con la 34esima giornata dopo l'anticipo di questa sera domani in campo alle 14.30 tutto cuoio Savono mentre alle 15 Lascoli in Toscana contro il Grosseto alla stessa ora la capolista Teramo invece che cerca l'allungo contro la Lucchese domenica alle 11 l'Aquila sarà impegnata in Toscana a Pistoia Lancone alle 12.30 invece riceve il Prato ultima sfida in programma quella di lunedì sera tra Pisa e Spalle dopo la rifinitura di questa mattina allo stadio Bonolis di Teramo la società reso noto le convocazioni in vista della gara di domani alle 15 con la Lucchese 19 giocatori arruolati da Vivarini sugli spalti sarà presente anche il circolo parrocchiale Alba Giallonera di Montori Alvomano che si va ad aggiungere al San Mauro e Placido di Colle Atterrato la Madonna di Fatima di Villa Maggiore del circolo arcobaleno della parrocchia San Gabriele di Colle Parco questa partnership è stata instaurata con il centro sportivo italiano ultimi allenamenti per l'Ascoli in vista della gara di domani pomeriggio alle 15 allo stadio Zecchini di Grosseto con la squadra appunto diretta dall'ex tecnico Massimo Silva si è aggregato dal gruppo Daniele Altobelli mentre ha lavorato a parte Perez che comunque è destinato sulla via del completo recupero scendiamo di categoria in serie D nel girone F caccia al biglietto da parte dei tifosi della maceratese che domenica prossima sosterranno i biancorossi nella prima delle ultime 5 battaglie che restano nel girone F della serie D dalla segreteria biancorossa infatti giunge notizia che dei 500 tagliandi inviati dal Castelfidardo al prezzo di 12 euro ne sono stati venduti già 438 la seconda forza del campionato il Fano ospita il Campobasso mentre la Samba riceve il Chieti San Nicolò è impegnato a Celano altro derby di giornata è quello che vedrà di fronte Civita, Novese e Jesina e apriamo la pagina del basket penultima giornata della stagione regolare nel girone F quattro le gare che si giocano domani sabato in anticipo tra queste c'è la sfida della Globo Campli di scena alle ore 18 a Pesaro contro il Loreto con un successo in terra Marchigiani e Farnesi avrebbero anche l'ausilio della matematica per quanto concerne il terzo posto ma vediamo assieme il programma completo della penultima giornata la venticinquesima Loreto Campli Perugia-Ortona Valdiceppo-Pescara Pedaso-Pisaurum Falconara-Tolentino Robur-Osimo-Matelica e Gubbio-Civitanova torniamo ancora al calcio a tre giornate dalla fine del torneo di eccellenza abruzzese il cerchio per la vittoria finale si è ristretto ad Avezzano e Paterno divise da appena un punto la capolista di mister Lucarelli sulla carta un turno favorevole ospitando l'alba adriatica mentre il Paterno farà visita al capistrello di Torti nelle marche la sfida invece sempre in eccellenza è ristretta alle due attuali capoliste Tolentino e Folgore-Falerone i maceratesi saranno impegnati sul terreno dell'Atletico Alma mentre i fermani ospitano la penultima forza del campionato sia la forse pronese tredicesima giornata di ritorno nel girone A di promozione abruzzese col Morro d'Oro che va alla caccia di punti per tenere a distanza il Ponte Vomano che a sua volta non molla e spera ancora nella rimonta unico anticipo al sabato quello che metterà di fronte Cologna e Cerchio tutte le gare si disputeranno alle ore 16 mentre nel girone B della promozione marchigiana due squadre sono divise da un punto l'Elvia Recina attuale leader in scena a Montefano mentre l'Atletico Piceno riceve la San Giustese questa è la penultima giornata vediamo assieme il programma completo delle gare che si disputeranno tutte domani Atletico Piceno-San Giustese Chiesa Nuova-Loreto il Pidenza-Cascinare-Montottone Lorese-Potenza-Picena Montefano-Elvia Recina Porto Sant'Elpidio-Aurora Treia San Marco Pagliare e Settempeda-Monturanese in prima categoria ora la Zurra Colli squadra dominatrice assoluta del campionato di prima categoria al girone di Marchigiano che ha ottenuto la promozione con quattro gare di anticipo verrà premiata domani dall'amministrazione comunale di Colli del Tronto con una festa che coinvolgerà ovviamente tutta la cittadina e l'intera vallata sempre in questo campionato si gioca la 29esima giornata penultima della stagione regolare tutte le gare in programma domani sabato nell'anticipo vediamo il programma assieme a Zurra Colli-Ciabino Altidona-Pedaso New Generation Castignano-Dipatranzone Cuprenze-Futura 96 Monsan-Pietro-Fida Palmenze-Giuventina-Ascoli Piane di Morro-Centoprandonese Venarotta-Petritoli chiudiamo con la palla a mano femminile ultimo impegno ufficiale della fase ad orologio per la Globo Allianz Bioapta Teramo domani pomeriggio alle 17 infatti sul campo del Cassano Magnacolo i ragazzi Settimo Massotti sono chiamati ad affrontare una gara fondamentale in ottica classifica quella di sabato è una partita che vale molto più dei tre punti che ci sono in palio vicendo potremo mantenere il secondo posto e nella semifinale Scudetto potremo disputare l'eventuale Bella in casa questo è il commento del dirigente biancorosso Giuseppe Pelusi bene con questo è proprio tutto noi vi ringraziamo con l'attenzione non perdete l'appuntamento dopo la sigla con il Genius Piceno grazie e buonasera grazie a tutti